Ogni volta che piove le sue grondaje danno il là a un vero e proprio concerto. Il palazzo che suona è un'attrazione decisamente originale per i turisti che visitano Dresda. Opera di tre artisti sassoni, l'edificio è completamente ricoperto da un sofisticato intreccio di condutture imbuti che quando c'è pioggia producono una sinfonia di suoni. Una vera e propria opera d'arte da ammirare in caso di mal tempo.